Ciao e bentrovati di nuovo su Macraris, sono Aristide Lapa. Qui a Macraris parliamo di automazione e digitalizzazione dei processi di lavoro, così puoi diventare un vero e competente cittadino digitale e approfittare delle migliori opportunità crescenti sul mercato del lavoro. La tecnologia da sempre esiste per migliorare la vita delle persone, grazie ai robobot migliaia di dipendenti possono mai dedicare più tempo alle attività che amano, dedicare più tempo alla creatività, dedicare più tempo ai clienti, eliminando attività noiose e ripetitive. In questo video tutorial Power Automate Desktop ti presentiamo un progetto che permette di risparmiare tante ore e tanto denaro. Indossiamo le scarpe di uno specialista dei crediti che si reca sulla piattaforma dei crediti commerciali del MEF, ovvero del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per controllare lo stato dei pagamenti delle diverse fatture da allocare. Sorge una domanda naturale, che cosa è la piattaforma dei crediti commerciali? La piattaforma dei crediti commerciali assolve a varie funzioni, tra cui quello che ci interessa qui, monitorare lo stato di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le aziende, o viceversa monitorare i crediti vantati dalle aziende per i servizi prestati alle pubbliche amministrazioni. Ci sono quindi diversi vantaggi per i diversi attori, ma quello che qui ancora ci interessa è la capacità, la funzionalità, di poter monitorare lo stato di pagamento delle fatture sulla piattaforma dei crediti commerciali. Il nostro specialista dei crediti si reca ogni giorno sulla piattaforma dei crediti commerciali per controllare il dettaglio, il mandato dei pagamenti e poter allocare gli incassi e quindi chiudere le fatture all'interno del gestionale SAP. Qui una domanda sorge molto naturale, ma questa attività che viene fatta dal nostro specialista, viene fatta come uno robot, oppure come un essere umano? Lo scopriremo nel prossimo video. No, 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 non te ne andare! Non vogliamo mica lasciarti con l'amaro in bocca! Vediamo almeno l'operatività manuale del nostro specialista dei crediti sulla piattaforma dei crediti commerciali. Perfetto! Vediamo ora cosa deve fare il nostro specialista dei crediti nella sua operatività manuale, e quindi senza RoboBot, Power Automate Desktop. Deve recuperare il mandato di pagamento dalla pubblica amministrazione e dalla banca, va sul portale della piattaforma dei crediti commerciali del MEF e qui deve inserire il numero di mandato, qui deve inserire l'anno di riferimento e qui deve fare Cerca. A questo Cerca gli dà questo risultato ed a questo risultato deve andare a cliccare qui su Esporta lista fatture. Esportando lista fatture ha la possibilità di salvare in una determinata cartella oppure può anche semplicemente farla salvare nella cartella Download perché una volta che ha recuperato le informazioni può anche lasciare perdere quel file. Questo è intanto una piccola anteprima di quello che abbiamo automatizzato con Power Automate Desktop. Una volta che ha il file, lo apre quindi in Excel e a quel punto deve andare a vedere le righe che corrispondono all'ente per cui ha preso il mandato perché da questo file possono esserci informazioni di più enti perché il numero di mandato può coincidere tra diverse pubbliche amministrazioni. Quindi controlla qui l'ente, la PA va qui se corrisponde a quell'ente di mandato recupera le relative fatture verifica che l'importo quadra al che può andare ad allocare nel sistema gestionale questa informazione e quindi chiudere le fatture relative al pagamento che ha ricevuto. quando ha terminato passa al secondo mandato e puoi immaginare che se ci sono tante transazioni con le PIA questa operazione è davvero davvero macchinosa eppure ci sono delle soluzioni molto immediate per andare a semplificare ulteriormente questo lavoro e l'automazione robotica dei processi è qualcosa di immediato per andare a fare web scrapping quindi ad estrarre dati automaticamente da una piattaforma web ora ti anticipo alcune riflessioni che sono state fatte sullo sviluppo di questo progetto intanto possiamo notare che alla ricerca quindi quando clicchiamo qui su cerca non sempre è disponibile il mandato e potrebbe essere anche o non esistente oppure disponibile disponibile in un secondo momento a quel punto riceviamo questo avviso per dire che non l'ha trovato e anche questo l'abbiamo visto in qualche tutorial che abbiamo fatto su questo canale come andare ad utilizzare l'OCR tecnologia Optical Character Recognition per andare a catturare un'immagine da uno stato e verificare se determinate stringhe di parole si ritrovano all'interno di quella videata a quel punto possiamo determinare se una istruzione ha determinato un errore oppure no e poi istruire il nostro programma per le azioni correttive quindi puoi vedere che questo è senz'altro un'attività molto macchinosa e ci piacerebbe anche sapere per voi che guarderete questo video se avete dei sistemi migliori di questo di Power Automate Desktop per andare ad interrogare automaticamente la piattaforma dei crediti commerciali oppure se lo state facendo ancora manualmente quindi come dai robot e questo potrebbe essere senz'altro una soluzione poi a voi soddisfacente oppure se questo può essere anche un'illuminazione per andare a semplificare i vostri processi in quello che noi abbiamo configurato come soluzione abbiamo un file di Excel che viene preparato sulla base delle estrazioni che vengono fatte dal gestionale SAP e qui utilizziamo Power Query per andare a formattare in modo automatico i dati in modo di predisporre le informazioni tale per cui quando utilizzeremo Power Automate Desktop per fare web scrapping quindi andare ad estrare le informazioni dalla piattaforma dei crediti commerciali di andare a leggere le specifiche informazioni e ricercarli all'interno della piattaforma se questo video avrà dei riscontri positivi andremo pubblicheremo più nel dettaglio elementi di questo sviluppo come abbiamo applicato il pensiero computazionale come abbiamo suddiviso le varie fasi come abbiamo implementato e quali azioni abbiamo implementato all'interno di Power Automate Desktop per andare ad automatizzare completamente questo lavoro e permettere che maggior parte del tempo venga destinato ad attività che hanno davvero valore aggiunto se questo video ti è piaciuto metti un mi piace per davvero ora ti saluto grazie per ora un like un mi piace a questo video se ti è piaciuto registrati al canale Macraris e non ti dimenticare di attivare il campanellino per ricevere notifiche di buoni contenuti come questo che pubblichiamo regolarmente per permetterti di diventare un vero cittadino digitale grazie e a presto grazie a tutti